Un suo commento da giornalista, come è stata questa campagna elettorale? Quali sono stati i toni? Mi pare che la campagna elettorale per le regionali sia stata un po' oscurata dalla campagna elettorale per le europee che a sua volta è stata oscurata da una polemica tutta nazionale, una battaglia politica molto nazionale. Certamente ci sarebbero stati temi molto importanti, il Piemonte, la crisi, l'economia, lo sviluppo eccetera che appunto non sono stati tanto sviluppati. Come risultati mi pare che il risultato fosse un po' scontato in partenza, c'era un candidato molto forte e altri candidati e forze politiche suddivise che quindi si sono un po' divisi i voti che potevano andare alle altre forze politiche.